Ciao a tutti, sono Niki, questo è il mio secondo tempo materiale e ho deciso di chiamare questo tempo materiale Mangiare in tutti i sensi il cibo come cultura. In un qualche modo per chi non avesse visto sulla pagina di Zero Laboratorio di Filosofia troverete anche il primo tempo materiale che ho fatto che invece portava il titolo Mangiare in tutti i sensi il cibo come segno, quindi anche dal titolo si capisce che questo secondo tempo materiale vuole essere anche un po' una continuazione del discorso che avevo iniziato a fare con il precedente video. Vediamo in che modo. Allora, nel video precedente si era parlato di cibo come segno appunto, quindi della possibilità che il cibo ci offre di leggere la nostra realtà, la nostra quotidianità da un altro punto di vista, quindi come segno appunto, che indica qualcosa di differente rispetto a quello che pensiamo di avere sotto gli occhi, di percepire banalmente, superficialmente. Per quanto queste due parole in realtà non siano sinonime, ma ok. In questo secondo tempo materiale l'obiettivo che mi sono preposta è quello invece di analizzare il cibo come possibilità nuova di leggere la nostra cultura, la nostra identità culturale a livello di popolazione, di stato, ma anche individuale, come storia individuale. Ecco, vediamo in che modo. Certamente parlare di identità culturale non è un tema semplice, non è un tema facile da svolgere e da analizzare perché identità culturale è un'espressione che porta con sé una serie di definizioni su cui bisognerebbe capirsi e intendersi fin dall'inizio per cercare di continuare questo discorso. In realtà l'obiettivo di questo tempo materiale non è quello di analizzare questa definizione, però sicuramente è quello di definire in un qualche modo il cibo come parte integrante, se non fondativa anche in qualche modo della nostra cultura. Anche qui, per esempio, cultura sarebbe un altro termine da intendere, ma certamente potremmo definire cultura in questo senso, quindi il rapporto al cibo, come tutta quella serie di pratiche, di azioni, di gesti e di oggetti che compongono la nostra storia come individui oppure appunto come popolazione comunità, quindi che non fanno parte in un qualche modo della nostra natura. E qui sarebbe un altro discorso da eviscerare, però insomma poniamo come fatto inizialmente, e nel caso poi se ci saranno dei chiarimenti da fare ne parleremo in seguito molto volentieri, il fatto che il cibo compone o fa o fonda anche in parte la nostra identità culturale. Lo storico dell'alimentazione e docente a Bologna, Massimo Montanari, ha scritto un libro pubblicato dalla terza nel 2006, che si chiama Il cibo come cultura, appunto, in cui definisce in questo modo il cibo come cultura secondo tre principali aspetti. Innanzitutto il cibo e cultura quando si prepara. Anzi, i primi due aspetti direi che potremmo quasi tenerli insieme, quindi il cibo e cultura quando si produce e il cibo e cultura quando si prepara. Questi sono i primi due. Questo perché dal punto di vista di Montanari il cibo umano è un cibo del tutto particolare, perché noi esseri umani siamo, secondo questa visione, gli unici a dedicarci a tutta una serie di pratiche, di tecniche, di trasformazione con cui rendiamo il cibo tale, con cui appunto trasformiamo delle materie prime che troviamo in natura o acquistiamo e che poi attraverso questi passaggi, tante volte anche molto complessi e molto lunghi, raggiungono poi la definizione di cibo. Ecco, noi in un qualche modo siamo gli unici all'interno degli esseri viventi a occuparci di tutta questa serie di pratiche, a dedicarci alla cucina, appunto. Quindi per questo il cibo inteso come cultura perché la cucina, la trasformazione del cibo, ciò che rende il cibo tale anche il nostro cibo tale, è qualcosa che ci definisce in quanto esseri umani siamo gli unici a dedicarci a tutta questa serie di pratiche. L'invenzione del fuoco appunto è stata definita sia da Montanari che da diversi altri studiosi, tra cui Richard Wrangham, come elemento fondamentale per leggere l'evoluzione dell'uomo, il suo passaggio da primate a Homo sapiens, per cui in un testo di Wrangham, che si chiama L'intelligenza del fuoco, lui scrive Io credo che il momento di trasformazione che portò alla nascita del genere Homo, uno dei passaggi epocali nella storia della vita abbia avuto origine dal controllo del fuoco e dall'avvento della cottura dei cibi. Quindi in un qualche modo la cottura del cibo, la trasformazione del cibo, il cibo stesso giocano un ruolo fondamentale nella definizione anche della nostra essenza in quanto uomini, della nostra appunto identità culturale anche e quindi non soltanto come abbiamo sempre immaginato, come abbiamo sempre sentito e studiato il linguaggio, la razionalità ci definirebbero come umani, diversi rispetto agli altri animali, ma il cibo e le pratiche legate all'alimentazione si inseriscono proprio all'interno della nostra storia in quanto uomini, donne, definendoci propriamente, definendo la nostra essenza, quindi non solo noi definiamo il nostro cibo perché lo plasmiamo e lo trasformiamo affinché sia a noi più consono, affinché ci piaccia di più, ma anche potremmo dire il contrario e questo arriveremo alla fine anche, anticipo la riflessione che poi farò alla fine, ma anche potremmo dire proprio l'opposto, cioè che questo stesso cibo per come noi lo mangiamo, per come noi ancora prima lo produciamo, per come noi lo prepariamo, per come noi lo troviamo e decidiamo di crescere, di produrre quel cibo, tutti questi fattori ci definiscono in un qualche modo, quindi non è solo l'opposto, questo è molto interessante, ma appunto magari lo vediamo meglio alla fine, dopo aver annunciato il terzo punto, il terzo aspetto per cui Montanari nel suo testo definisce il cibo come cultura, e cioè il cibo e cultura quando si consuma. Ovviamente questo forse oggi è uno degli aspetti più fondamentali, ma non tanto perché gli altri lo siano da meno, perché forse giocano un ruolo maggiore nella nostra definizione in quanto esseri umani, ma perché ad oggi il punto fondamentale è proprio il consumo di cibo che è sicuramente cambiato radicalmente rispetto anche solo a qualche decennio fa. Lo spartiacque che i Montanari, come altri studiosi, storici dell'alimentazione, giornalisti, il punto fondamentale, diciamo il passaggio fondamentale che c'è stato nella produzione del cibo e nel suo consumo sicuramente si può ritrovare dopo la seconda guerra mondiale con il boom economico a partire soprattutto dagli anni 50, il mercato dell'alimentazione cresce a dismisura perché chiaramente la domanda cresce, quindi la produzione di cibo a livello nazionale, dovendo far fronte a una domanda sempre crescente, si deve concentrare tanto più sulla quantità e non più sulla qualità, per cui si passa da una produzione dal piccolo produttore al grande produttore. Quindi con l'avvento dei supermercati anche l'acquisto del cibo diventa sempre più massiccio, il mercato dell'alimentazione diventa sempre più anche ingombrante, questo anche per favorire una diminuzione anche del costo del cibo e questo però senza dubbio appunto ha creato uno squilibrio tra qualità del cibo e quantità del cibo, sempre di più la seconda, il secondo è l'aspetto su cui a livello di produzione nazionale si pone di più l'attenzione. E quindi appunto con l'andare dei decenni ci sono stati tutta una serie di passaggi tra la produzione del cibo e il consumo che sono venuti a mancare o che quantomeno si sono fatti molto più scuri, molto più sconosciuti, per cui noi oggi siamo a livello di numeri molto più consumatori che non anche produttori, consumiamo cose che tendenzialmente vengono fatte non da noi, vengono preparate anche non da noi, siamo sempre più affezionati anche per mancanza di tempo a una cucina che sia il più veloce possibile, che ci richieda di passare meno tempo possibile proprio da dedicare alla preparazione del cibo. Infatti poi, parentesi, come avevo ricordato l'altra volta, ci siamo resi conto adesso in questo periodo di emergenza in cui abbiamo tanto più tempo da dedicare magari alle nostre passioni o tanto più tempo in cui non pensare, ci siamo resi conto di quanto tempo ognuno di noi ha passato sempre di più a cucinare, no? E questo però, questo rimando al primo video. Quindi, insomma, abbiamo sempre più bisogno di una cucina che sia fast, che sia veloce e quindi chiaramente ci rivolgiamo a, diciamo, l'acquisto di prodotti che richiedano il minor tempo possibile da parte nostra per la preparazione. Possiamo citare in questo caso Michelle Pollan, che nel suo Dilemma dell'Onnivoro, uno tra tanti perché Pollan ha, tra l'altro, fatto un piccolo errore, si chiama Michelle Pollan, è un giornalista americano, statunitense, che ormai ha scritto un'infinità di testi riguardo all'alimentazione e tanti anni che se ne occupa. Il Dilemma dell'Onnivoro è uno dei testi, diciamo, più, che hanno anche di più forse richiamato l'attenzione sul tema. E in questo testo, giusto per dire due parole, ci invita proprio a riflettere su quanto poco tempo utilizziamo nella preparazione del nostro cibo e quanto progressivamente, negli scorsi decenni, si sia allungata la catena dal produttore al consumatore e quanto, quindi, questo allungamento, questo allungamento del processo abbia innescato in ognuno di noi una serie di dilemmi, appunto, derivanti dal fatto che non sappiamo più materialmente quello che stiamo mangiando, non conosciamo più i prodotti, non sappiamo dove sono stati coltivati, dove sono stati confezionati, come sono stati fatti. E questo, ovviamente, genera tutta una serie di dilemmi, appunto, di problemi, per cui ci troviamo a destra ad oggi sempre meno onnivori. E invece la nostra identità culturale, la nostra identità alimentare è sempre più caratterizzata dalla mancanza di certi alimenti, per cui ci sono le diete senza glutine, le diete senza lattosio, ci sono tanti alimenti che vengono progressivamente eliminati dalle nostre diete, proprio perché non ci fidiamo di questo mercato che, insomma, è venuto, è diventato sempre più ingombrante, però anche sempre più sconosciuto al consumatore. Questo era un po' per esemplificare, appunto, l'ultimo punto di cui parlavo precedentemente di Montanari, per cui il cibo è cultura quando si consuma. Per cui, ecco, secondo questi tre aspetti, il cibo è cultura quando si produce, il cibo è cultura quando si prepara, il cibo è cultura quando si consuma. Noi avremo un quadro finale per cui, come dicevamo all'inizio, il cibo e soprattutto la sua preparazione, le pratiche di cucina, sono fondative della nostra cultura, della nostra identità culturale, ripeto, sia a livello di storia individuale, di comunità, popolazione, di stato e nazione. Però la riflessione finale che mi piaceva, diciamo, porre l'attenzione è proprio il fatto che, secondo me, non è solo che il cibo si inserisce all'interno della nostra cultura, ma ci determina anche in parte, perché, appunto, la diversità con cui oggi viene prodotto il cibo e quindi quel processo sempre più farraginoso a cui facevo riferimento prima nella produzione del cibo, che ci permette di sapere tanto meno di quello che mangiamo oggi, ci definisce anche come qualcosa, perché, come dice Polla, noi siamo sempre meno onnivori e sempre più qualche cos'altro. Siamo sempre più mancanza di certi alimenti, per cui diventiamo, alle volte diventiamo, appunto, celiaci, perché magari i prodotti che abbiamo consumato per tempo, e qua si entrerebbe in tutto un altro discorso, però magari ne parleremo meglio, i prodotti e le farine, i cereali che abbiamo consumato per tanto tempo erano prodotti, diciamo, su larga scala, per cui non erano fatti in un qualche modo per il nostro organismo e ci hanno causato qualche problema, siamo intolleranti a tanti alimenti, quindi sempre di più un'identità culturale mancante di certi alimenti, di certe componenti che però sono state parte fondamentali dell'identità nazionale per tantissimo tempo. E al contempo potremmo anche dire, questa identità culturale che passa attraverso l'alimentazione è il nostro miglior biglietto da visita anche per gli altri stati, cioè nella comunicazione con persone che hanno una storia, un'identità culturale differente dalla nostra. E quindi per fare un esempio su tutti che, diciamo, forse ci renderà anche più chiaro quest'ultima riflessione, la dieta mediterranea per cui noi siamo tanto conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, oggi si trova sicuramente ad essere ridimensionata, a dover essere ripensata anche solo per onor di coerenza rispetto alle pratiche e abitudini alimentari che noi oggi seguiamo, perché sempre meno di noi, anche solo a livello appunto nazionale, possono dire di seguire una dieta di questo tipo per varie problematiche che appunto richiamavo prima e che potremmo approfondire in seguito, ma questo era per dire appunto e esemplificare ancora meglio come le pratiche dell'alimentazione, l'alimentazione stessa e il cibo possono essere considerati cultura e non solo, possono essere considerati parte integrante della nostra definizione in quanto uomini e soprattutto rispetto alle nostre abitudini, alle nostre identità culturali. Spero che questo tempo materiale sia stato interessante, io ripeto sono Niki, tutte le informazioni riguardo a me ma soprattutto al progetto Tempi Materiali a Zero Laboratorio di Filosofia li trovate sul sito dove trovate anche tutti gli altri contributi, seguiteci e alla prossima, ciao!